Ragazzi Vi dirò soltanto una cosa Coincidenza che sia venuta questa schermata Con Luigi Perché ultimamente nell'ultimo tempo Non si sta facendo altro che parlare Sia nel canale Nintendo che In altri canali Di In altri canali dedicati appunto alla Nintendo Non si fa altro che parlare del nuovo Luigi's Mansion Luigi's Mansion 3 Che tra l'altro oggi è anche uscita La notifica su Switch Io ragazzi sono iscritto al canale della Nintendo Adesso vi faccio vedere In velocità La nuova notifica Eccola E guarda Ti metto anche mi piace Perché Ci sta Ragazzi Un giorno ci farò un video anche io Riguardante Luigi's Mansion 3 Ma Oggi voglio andare a giocare Non voglio andare a Fare pulcità a un gioco Allora Direi che Per festeggiare che sta per uscire Luigi's Mansion 3 Non si sa quando Dicono quest'anno eh Però Facciamo gran premio In 150 Grazie Direi che appunto per festeggiare Usiamo Luigi Con una bella moto O massimo col quad Moto o quad Moto 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 Prendiamo qualcosa di carino Non Solito stronzato Facciamo il trofeo fungo va Ragazzi Oggi faccio un Il trofeo fungo E L'ultimo trofeo Quindi Trofeo fungo E trofeo campanella Poi dopo ci salutiamo Sono con Luigi E li faccio Let's go Allora Uh c'è Peach C'è anche Mario Ciao Mario Però ragazzi Io vi ricordo che Luigi l'ho preso uno Perché è il mio secondo personaggio preferito Dopo di Mario Un tempo era Il mio personaggio preferito principale Ma Adesso è diventato Mario E' tornato ad essere Mario Ma Io vi ricordo Appunto che l'ho preso Perché sta per uscire Luigi's Mansion 3 E quindi per festeggiare Prendo lui Stesso Mario Kart Che è su Super Smash Bros Che sarà appunto il prossimo video Di questo canale Sarà Quello di Super Smash Bros Uso Luigi Che è il personaggio più scarso Del No ragazzi Luigi's Super Smash Bros Tipo scassissimo Cioè Soltanto la ulti è forte Però per il resto A mossa scassissime Però appunto ragazzi C'è Lo uso per Per festeggiare appunto Perché resta sempre uno dei miei personaggi preferiti Mario e Luigi Sono No a dire La verità I miei personaggi preferiti Sono Mario e Luigi E Todd Gli altri se ne vanno a fare in cuore Però Per il resto Tutti Loro sono i miei preferiti Mario e Luigi E Todd No perché ragazzi Todd Poi è troppo simpatico Allora Allora ragazzi Dando che facciamo Il trofeo Fungo E il trofeo Campanella Possiamo strutturare Il video così La prima coppa La facciamo Con la moto E la La seconda Invece La facciamo Con il quad Non sarebbe neanche troppo male Come Se solo Ditorno Se avessi Mario E avessi una Oh Ragazzi Ho una Ho una bobomba Ho una bobomba Kamikaze L'ho preso Siamo seri Però mi sa che Mi sono anche Autopreso io Che stupido Però ragazzi L'ho seriamente Preso con la bobomba Ma sono un figo Allora Perfetto Prossima corsa Ragazzi Ho dovuto rifare Tipo questo video Tipo due volte Perché la prima volta Mi si era sminchiata La fotocamera E La seconda E questo qui Invece La prima volta Mi si era Comunitamente sminchiata La fotocamera Ed era brutto Un punto dove c'era La fotocamera Che si sminchiava Tutta quanta Quindi Appunto ho preferito Rifarlo il video Quindi sapete che è un video Rifatto E tutti i precedenti Dati Della partita Percedente Appunto Non li vedrete Perché li ho cancellati Allora Vediamo se Cosa Ma Bastarda Mi ha preso seriamente Con una bomba Ma Sei stata Daisy È stata Daisy Oppure Daisy o Mario Vabbè Non è importanza Non sono questi I dilemmi della vita Ho visto la morte In faccia L'ho vista Per due volte Perché aveva Un super klaxon In mano L'ho vista Per due volte La morte E vi giuro Ragazzi Che il super klaxon Non è una cosa bella E anche Fausto Ciao Fausto Mi sa che Fausto Non era Di buon umore Oggi Ragazzi C'è anche un altro easter egg Che dopo vi faccio vedere Sempre Al terzo giro Se riesco In modo di levarmi Dalle palle Questi Questi qui Oppure Magari ci passo Un attimo Però Starò zitto Perché C'è la musica Di Di Super Mario 64 A un punto Di questa mappa Quindi Adesso un attimo Ve la faccio ascoltare Sto zitto Quando c'è il punto Sto zitto eh Dovrebbe essere Più o meno Quello Eccolo Vai 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 E che sfido Non si sarà capito Un cazzo Però va bene Io almeno Ci ho provato Ragazzi Ci ho provato Vabbè Dopo ve lo faccio Ascoltare meglio Dopo ve lo faccio Ascoltare meglio Con una Partita Prova Tempo Così posso stare Prima quanto voglio Allora Dai Madonna Prossima Dolce Dolce Canyon Terza Corsa È Daie Tra l'altro ragazzi C'è Pitch che sta continuando A rompermi le scatole Sì Beccati questa Bastarda Beccati questa Va bene L'ha stivata Complimenti Sei stata veramente brava C'è non è che ci voglio un genio Per schiavare una banana Però Voglio dire Se siete dietro Al A uno E questo qui Improvvisamente vi molla La banana dietro E ragazzi È successo Succede di molto più Nell'online Che nel single player Però Succede anche Molto nel single player Ma molto di più Nell'online Non Sì Tipo un sacco fastidio Da fastidio E anche quello E che sfiga però Va bene dai ragazzi Possiamo No 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 Mi rifiuto Io ragazzi Mi rifiuto Di crederci Che sono stato appena colpito Da un boomerang Forza Let's go E poi ragazzi C'è Anche il Calamaco Qua Che si Scrive veramente Calamaco Ragazzi Sono stupido Non so Ragazzi Non andatemi mai La patente Perché mi vado A Succidare Se guido Io Allora Vediamo un po' Eh Dai ragazzi Queste tre banane Me le tengo anche Per avere Un piccolo scudo Che mi protegge Perché ragazzi I gusci rossi Sono bastardi Sono tanto bastardi Con le tre banane Ci proteggiamo Perché il posto che colpiva La macchina Colpiscono le banane Però ragazzi Anche quel guscio rosso lì Oh Eccolo Boom Fa un cuore Alle banane Teniamoci il super klaxon E il primo guscio blu Che arriva Il primo fausto Che arriva Che si chiama un guscio spinoso Ma io lo chiamo un fausto Perché mi piace Chiamarlo così Ehm Il primo che arriva Di fausto Boom Allora Dai Ma perché quando ce l'ho Nessuno lo lancio Vabbè Tardic che adesso arriva Eh Perfetto Stavo scherzando Meglio 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 Allora Io prima Luigi seconda Ma Luigi seconda Io primo Peach seconda Mario terzo Perché non so parlare oggi Perché mi eccito Ragazzi mi eccito Quando parlo Davanti a uno schermo Perché Che poi Cioè praticamente io parlo davanti a uno schermo Che poi dopo va caricato su youtube Perché è un video Quindi insomma Diciamo È tutto un casino Ragazzi Devo pensare che sono davanti a uno schermo Non sono davanti a una persona E quindi non devo citarmi Allora Perfetto Mamma mia Mamma mia Cosa ho appena visto Ancora sta Ancora Sta bastarda di Peach Non la sopporto Guardatela Ma è un fenomeno No Non lo accetto Mi spiace Vattene a fanculen Grazie Allora Con il parasole Bellissimo Che poi Poi l'altro ragazzi Si chiama un parasole di Peach Con l'aggeggio Quindi 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 vado da solo Alle banane Per due volte E sto per venire schiacciato Da un ingranaggio di pietra Grandissimo Porca miseria Seconda posizione Terza No No Vai Spichiamo Col parasole L'ha aperto Let's go Ciao bastarda Allora Vediamo un po' E adesso il volo Supremo Qua ragazzi c'è Io voglio dire A voi piace Di più Dottor Mario O Mario Normale Io preferisco Mario Normale Perché I giochi di Dottor Mario Per cortesia Sono carini Ma fanno anche Allo stesso tempo Fanno proprio cagare Quindi Quelli di Dottor Mario Fanno cagare Quelli di Mario Normale Sono belli invece Prima di quelli di Dottor Mario Sono soltanto dei puzzle E basta Allora Bene Abbiamo vinto ragazzi Abbiamo vinto ormai C'è Vai Adesso ragazzi Faccio un breve taglio Perché la prossima macchina Deve essere una bella sorpresa Ragazzi Siete pronti? Mi spiace Non abbiamo fatto vedere il trofeo Nel coso fungo La coppa fungo Però ragazzi Guardate qua adesso Pronti a vedere la macchina? Allora ragazzi Ci sono soltanto mezz'ora Per sceglierla Però Guardatela eh Mi raccomando Kart full oro Bitch Bene Siamo all'ultima coppa Ovvero quello campanella E siamo anche in 200 Prima eravamo in 150 Adesso siamo in 200 Quindi Va molto più veloce E Arrivano un sacco di gusci rossi Un sacco di fulmini A profusione Quindi Dobbiamo stare molto attenti Specialmente io Perché sono io Che ci gioco Ovi state Stato andando Guardando Allora Brutto bastardo Ragazzi Questa pista qua C'era anche Dal 3ds Io che le ho avute Quasi tutte Quasi tutte Le console nintendo Mi posso giurare Che Sul 3ds Faceva molto più schifo Sul 3ds Allora Perché tipo Era tutto illuminante Di azzurro Bruttissimo E Non c'erano C'erano tutte queste curve Però Tipo Era tutto pixelata Cioè Non so neanche io Come descriverla Allora Togli questa va Sono perduto Perdo soltanto Che tempo Se no Un giorno ragazzi Faccio un video Chiamato switch Contro 3ds Io Cioè Ragazzi Sicuramente Vince la switch Però Ciao Fausto Ragazzi C'era Fausto Fino a qualche minuto fa Che mi è esploso in testa Però va bene Allora 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 Vediamo un attimo Ho già detto Che questa È l'ultima coppa E dopo ragazzi Se avanza del tempo Vi faccio vedere Anzi sentire Più che altro L'easter egg Che prima Vi volevo far vedere Non ce l'ho fatta E quindi Per questo qui Chiedo ancora scusa Ma dopo Ve lo faccio sentire meglio La canzone Di Mario 64 Seconda corsa Let's go C'è Mario Con la fulmine Perfetto No perché Ha una fulmine Con le ruote normali E Il plano Devo vedere Però stai Mario Beh che ti sei Sto cuccioloso in culo Va Ciao bello E Ne ho anche un altro Vai Let's go Allora Vediamo un attimo Se riusciamo a Ma C'ho Link dietro Ma C'ho Link Ma È il primo Link Sì perché È quello lì Quando inizia il gioco Di Zelda Quando parla Gli ho anche seminati Di un bel po' Ragazzi Basta guardare Alla mappa E Gli ho seminati Anche di un bel po' Tutti gli altri Quindi Quindi Mi sono anche parato Benissimo Da un attacco Bellissimo Vai Ma perché Perché Ragazzi Se Link Schiattava Adosso A un A un Koopa Tipo lì Stavo dicendo Se Link Schiattava Adosso A un Koopa Ridevo Allora Quelli lì Non sono Koopa Sono tipo Paratroopa No Allora I paratroopa Sono quelli alati I Koopa Sono quelli normali Quelli lì Non mi ricordo Come si chiamano Però C'erano Un nome Che Lo sapevo Ma adesso Non me lo ricordo Più Let's go Mijes Quarto Che schifo Quarto Ma è Maledetto Link Maledettissimo Link Brutto Maledetto Adesso D'ora in poi Ragazzi Link sarà Il mio nemico Tranne In The Legend of Zelda In Super Smash Bros In Mario Kart Solo in Mario Kart Link sarà Il mio nemico A vita In tutti gli altri Giochi In Opera Allora Allora Brutto Maledetto Vieni qua Che adesso Ti ripiglio Vieni qua Maledetto Non mi sfuggi Dai Senza di questo Con la 200 Sono un folle Io sono un folle Sono un pazzo Allora Link Mi fa in favore Vuoi morire Grazie Sì Ho preso Ciao Link Prima posizione Attenzione Attenzione Oh Bellissima Allora Un fulmine Bellissimo Che Cioè Ragazzi Se è soltanto Il mio Il mio professore Di scienze Ne sarebbe fiero Di questo fulmine Perché Giustamente ragazzi I fulmine Di cosa sono composti Carica positiva E carica negativa No Adesso non mi ricordo bene Non ci voglio di ripassare Scienze Grazie Anche perché sto facendo Un video di Mario Kart Non un video scientifico Allora Dai Madonna Settimo Cioè Da quarto A settimo Non No ragazzi Non lo accetto Mi dispiace Non lo accetto Non lo voglio Piante piragna Piante piragna Dai Sì Ha mangiato il calamanco Buono eh Il calamanco Dai Porca miseria Prima posizione Attenzione Un fulmine Che soltanto Il mio professore Ne sarebbe fiero Dai 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 Prima posizione Prima posizione Prima posizione Yes Ma posso Posso che Prima ho detto Pima Che roba è la Pima Prossima E ultima Dopo Ragazzi Per salutarci Vi faccio sentire La canzone Di Mario 64 Nella pista Qui son cavoli Ragazzi Qui son cavoli Amari Vai 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 C'è Mario Che sta Facendo cose Sta correndo A caso Va bene Io adesso Mi riprendo Tutte le mie belle Monetine Che potete Ho scoperto Che se avete Dieci monete Dovrei avervelo già detto Anche Cioè Dovrei avervelo già detto Anche nel video Quello precedente Che mi pare Che era dell'online Insomma Dopo vado a rivedere Che video era Però Se avete Dieci Dieci monete Avete proprio Il turbo al massimo Cioè Il card va Più veloce Allora Come se non Stasse già Duecento Più dieci monete Che il turbo È proprio al massimo Più un fungo O tre O quattro Dato che questi sono due Gli slot Cioè Siamo proprio a cavallo Cioè È impossibile guidare Con la duecent Però quando pari Io ce la faccio Fausto Bastardo Va bene No problems Ragazzi Io ho un piano Per spotterli tutti questi qui Innanzitutto bisogna Ho un piano per tagliare Ho un piano per tagliare La strada Di qua No Ragazzi Mario primo No No Non lo permetterò Terzo ragazzi Quarto Quinto Non arriverò Sesto Non arriverò Sesto Let's go Do this Quinto Terzo Link Link del cavolo No Ragazzi Link Ma esplodi Link del cavolo Esplodi Dai Che schifo Di bronzo Io Io la volevo d'oro La coppa Che schifo Di bronzo Vabbè L'altra però L'avevo ottenuta D'oro L'altra Era d'oro Questa di bronzo Però L'ho già ottenuta D'oro Quindi Bene ragazzi Ci vediamo Appena Vi faccio Vedere L'ister egg A dopo Pronti ragazzi Ho anche alzato Il volume Adesso Io sto zitto Appena entro in quella zona Si sentirà La musica Di Super Mario 64 Pronti Via Ok Forse Proprio non troppissimo Però un po' Si è sentita Un po' Quella No ragazzi Non so cantarla Vabbè noi Ci vediamo al prossimo video Spero che il video vi sia piaciuto E niente ragazzi Ciao Iscrivetevi E mi raccomando Mettete un like Ciao